Buongiorno a tutti, in primissimi scuso per la voce però purtroppo ho preso freddo e diciamo il mio fisico ne l'hai sentito Sono qui però per parlarvi di Jens Peter Auge, giocatore classe 99 norvegese del Bodo Glimt che in viaggio verso Milano dove dovrebbe firmare un contratto con il Milan per un ammontare diciamo di 5 milioni di euro che andano nelle casse del club norvegese Volevo però parlarvi un attimino in breve appunto del calciatore innanzitutto la carta identità parla per lui, un 99, cioè 21 anni ed ha tanti margini di crescita è un'altra destra, un'altra sinistra scusate, destra di piede che può giocare su entrambe le fasce ma soprattutto su quella sinistra dove sfrutta il dentale verso il campo per tentare poi la conclusione a rete è un giocatore del vivaio del Bodo Glimt a parte la studio 2018 dove ha giocato e neanche tanto nella Olesund, nella seconda, nella serie B norvegese, nella Obo Sliggen però poi da quando è tornato al Bodo Glimt nella stagione 2019 comunque ha cominciato a giocare diciamo in modo molto assiduo in prima squadra 2019, 27 partite più o meno, più o meno sono 30 di partite se non mi ricordo male sui 7 gol comunque un giocatore di ottima velocità perché c'è un 84 cm ma dall'ottima corsa la cosa che lo distingue da molti altri sui tempi di gioco tempi di inserimento, i tempi di giocata, i tempi di tocco di palla perché lui gioca molto sul tocco per anticipare l'intervento dell'avversario è abile soprattutto a tirare distanza, l'effetto molto spesso di potenza però con ottima precisione quindi è un buon mix tra un tiratore dalla distanza vera e proprio, nel senso di potenza e di ignoranza a chi invece gioca di fino ripeto, la sua dote principale è il discorso di avere un'ottima fisicità quindi abbastanza imponente meglio avere una muscolatura non così tanto sviluppata che lo consente di mantenere quella agilità e quella velocità sia sul breve che sul lungo corsa di ampe falcate e ripeto, grazie al suo tocco di palla ad anticipare l'avversario molto spesso i dribbling li riescono non di rado tenta la giocata infatti molte volte tenta la rabona soprattutto perché deve comunque migliorare di sinistro se non tanto, molto quindi che succede quando mai deve utilizzare il sinistro per allargare il pallone o magari per essere più preciso tenta appunto questo colpo questo colpo di rabona ad ora sicuramente lo aiuta il fatto della giovane età della spensieratezza e che ripeto è comunque di grande aiuto in una fase di carriera dove ripeto, il divertirsi è ancora una componente molto importante la spensieratezza è una squadra come il Milan che comunque anche analizzandomi nella piazza è molto interessante come piazza perché comunque il Milan è in ricostruzione con un Pioli che ha invertito totalmente la marcia che ha spodessato Rangling quando si parlava di Rangling quindi voglio dire basandosi sul sul carisma di Ibra Ibrahimovic diciamo che questi giovani possono crescere tanto soprattutto da quando è stato ingaggiato e riconfermato lo svedese il Milan si sta arricchendo di di scandinavi Roebak Björklund adesso Hauge lo stesso Ibra se non sbagliano anche tipo i Arshtain i Arshtain in in primavera non mi ricordo non vorrei sbagliare però comunque nel senso sia il Milan che la Serie A anzi Kier quindi voglio dire una Serie A è un Milan che si sta sempre più scandinavizzando nord-europeizzando ripeto davanti ai giocatori di 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 quella di quella parte del mondo non posso che essere felici essere felice io uno perché sono uno volevo comunque ricordarvi che da ottobre comincerò le live sulla piattaforma Viola salute permettendo comunque sicuramente da ottobre quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto mettete un mi piace condividete e iscrivetevi anche a Davor Virgo sulla piattaforma Viola perché ripeto poi ha ovviamente anche tutti i miei social perché poi da lì dirò quando andrò in live il giorno e l'ora scusatemi ancora per il mio stato fisico però purtroppo questo è oggi Virgo non è proprio al massimo del suo cosmo quindi vi mando un abbraccione ci vediamo al prossimo video ci vuole